buongiorno a tutti oggi per la prima volta proverò a fare un video smr dove pulirò la mia grubin box e le spazzole quello che vi serve innanzitutto è una paginella con dell'acqua un'altra cosa che vi serve è un asciugamano dove poter poggiare le spazzole una volta che si ha finito di lavarlo che io stenderò qui a terra un'altra cosa che vi serve è lo sgrassatore inoltre io utilizzo anche l'ammorbidente per i detersivi vado un po' con le mani a mescolare l'acqua ovviamente questo per me è un esperimento quindi se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando like e lasciandomi un commento qui sotto come molti di voi sanno questa è la mia grubin box ed è la fuocanza scusatemi se sentite degli altri fumori delle macchine di qui sotto ma sotto casa mia stanno facendo degli scavi per la metropolitana e ci sono dei grossi macchinari in funzione la prima cosa che vado ad immergere nella mia paginella è la mia brusca a setole morbide e lunghe poi questa piccola brusca è la mia brusca e la mia brusca è la mia brusca e la mia brusca è la mia brusca poi questa piccola brusca come sapete vado a metterle tutte a testa in giù poi quest'altra che uso più spesso rispetto a quella a setole quella più piccolina questa ha delle setole un po' più dure e mi ci trovo un po' meglio rispetto alle altre perché riesce a togliermi meglio lo sporco voi non avete idea già di quello che stia venendo fuori dalle spazzole poi vado a mettere questa che in realtà non uso da tantissimo tempo e che uso specialmente per la coda e la criniera la dovevo usare per il muso l'avevo comprata per questo però mi trovo più comodo utilizzare a utilizzarla per la coda e la criniera poi vado a mettere questa che si chiama striglia finlandese che sinceramente non ho mai utilizzato però anche se non l'ho utilizzata sta comunque nella croninbox quindi top.8 va lavata poi inserisco la mia striglia di ferro che fa praticamente pietà e sul bambino non infine vado a mettere questa che è la magic brush che è ridotta veramente malissimo perchè è quella che utilizzo davvero molto più spesso della striglia quindi è per questo che è così sporca la pulisco ma siccome ne ho altre due ho la faga sensazione che questa poi la cestinerò l'altra cosa che vado a mettere è ad immersione è il mettapiedi anche questo diciamo che sta quasi arrivando alla capolinea però quello che ho trovato nel set della cruming box non ha la spazzolina quindi al limite ne comprerò poi un altro normale qui in qualche negozio adesso devo andare a pulire tutti questi contenitori quello che mi servirà sono una spugna di questo genere e delle pezzicce procedo facendo cadere tutta la polvere nell'acqua ormai e utilizzo la spugnetta nella parte morbida e vado a pulire tutto tutta la parte esterna soprattutto la parte di sotto poi pulisco il cool gel e poi fatti mosche questo è veramente troppo sporco perché è quello che utilizzo di più e tra l'altro sta anche finendo poi il grasso questo è anche messo veramente male ora passo sopra questi questo prezzo ultimo paron per importanza è lo shoshin che io tengo in questa boccettina che in realtà non è neanche chissà quanto sporco però deve essere lavato di questo passo semplicemente la pezza la cosa che vado a fare adesso è aprire il fondo della crew in box per far uscire tutta la polvere cioè il fondo fa pena è un po' di più è un po' di più Grazie. 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 Grazie.